salve a tutti oggi iniziamo la nostra prima lezione online cerchiamo di essere più chiari possibile non preoccupatevi se non capite potrete rivedere quando in qualsiasi momento il vostro video allora oggi spieghiamo i complementi indiretti del secondo gruppo dal momento che abbiamo già affrontati quelli del primo gruppo come vi ricordate complemento di specificazione di denominazione il complemento di termine e così via i complementi indiretti del secondo gruppo sono introdotti da altre preposizioni e sono quelli che compaiono nell'elenco cioè il complemento di causa il complemento di fine o scopo il complemento di mezzo o strumento è intuibile cioè con quale mezzo con quale strumento il complemento di modo o maniera in che modo avviene un'azione e poi il complemento di compagnia unione cioè con chi o con che cosa svolgiamo una determinata azione quindi prendiamo in esame il primo di questi complementi indiretti del secondo gruppo che è il complemento di causa cosa che funziona il complemento di causa e il complemento di causa come dice la parola stessa indica il motivo la causa per cui si fa o avviene accade ciò che è dal nostro predicato verbale a quali domande risponde il complemento di causa risponde alle domande per quale motivo a causa di chi di che cosa o perché avviene un'azione o perché si fa un qualcosa ma nell'analizzare nel trovare diciamo il complemento di causa dobbiamo prestare attenzione se si tratta di un complemento di causa o di causa efficiente noi abbiamo già incontrato tra i complementi del primo gruppo indiretti del primo gruppo il complemento di causa efficiente o di agente in presenza di verbi passivi di frase passiva quindi facciamo degli esempi per non equivocare i due complementi poi le cose le capirete proprio calandovi nell'esempio se io dico luca svenne dalla paura o anche svenne di paura morì di paura questo dalla paura o di paura ovviamente sono secondo voi che complementi rispondono alla domanda luca svenne a causa di che cosa perché dalla paura pertanto saranno dei complementi di causa ok invece aguardiamo la seconda frase luca fu assalito dalla paura intanto noi vediamo che il predicato verbale ci dovrebbe mettere già diciamo sull'attenti perché è un verbo passivo quindi fu assalito non potremo rispondere alla domanda perché ma da che cosa quindi questo sarà un complemento di pensateci bene di causa efficiente a brevio ok quindi fu assalito da che cosa diventa non più il motivo ma da che cosa viene a sede infatti io posso trasformarla se voglio in una frase attiva se fosse attiva sarebbe luca anzi la paura diventa soggetto la paura assali luca benissimo ora vi invito a prendere il vostro testo di grammatica a portarvi alla pagina 569 vediamo alcuni esempi tratti dall esercizio numero uno e poi potete anche svolgerli sul vostro quaderno quindi analizzare tutta la frase dal punto di vista dell'analisi logica vi invito a farlo con sapete le barrette di suddivisione che siamo abituati a fare che siamo ci siamo abituati a fare e poi a capire insomma di fronte a quali complementi ci troviamo allora vedendo la prima frase la chiaramente sarà il soggetto non è venuta è il predicato verbale a scuola è un complemento indiretto ma non è venuta dove se risponde alla domanda dove sarà un complemento di luogo per motivi di famiglia allora non è venuta a scuola perché per quale causa per quale motivo quindi per motivi sarà complemento di probabilmente di causa di famiglia lo conoscete risponde alla domanda di chi che cosa quindi è un complemento di specificazione quindi eseguitelo sul vostro quaderno e poi seguitemi nella nell'analisi del prossimo siamo felici per il risultato del tuo esame anche qui intanto qui c'è qualcosa di sottinteso l'avrete già capito siamo felici siamo in presenza di che tipo di predicato nominale siamo felici chi noi chiaramente il soggetto sottinteso per il risultato quindi del tuo esame per il risultato o secondo voi che cosa può essere pensateci noi siamo felici può rispondere alla domanda perché sì certo per il risultato di che cosa del tuo esame qui chiaramente sarà un complemento di specificazione più non dimenticate mai di dire l'attributo va bene quindi del tuo esame complemento di specificazione più attributo lo stesso il complemento di causa a volte si configura in maniera un po' diversa può rispondere si può essere introdotto da varie preposizioni voi sul vostro testo ce ne avete gli esempi di quali preposizioni introducano il complemento di causa non è sempre per guardate questa frase a quella notizia si arrabbiò allora intanto chi si arrabbiò sarà un soggetto sottinteso probabilmente lui si arrabbiò questo è il nostro predicato verbale arrabbiarsi voce del verbo arrabbiarsi e perché a quella notizia d'accordo quindi questo sarà il nostro complemento di causa complemento di causa più ovviamente cosa dobbiamo dire l'attributo non dimentichiamo mai l'attributo questo è chiaramente un aggettivo dimostrativo quindi a quella notizia è sicuramente per quella notizia si arrabbiò posso dirlo certo a causa di quella notizia se io metto a causa di quella notizia ecco che è il nostro complemento di causa va bene ecco un ultimo piccolo esempio è per farvi capire che cioè lasciare a voi aperto domani mi direte se avete capito che tipo di complemento è la barca fu sbattuta dove contro gli scogli dalla furia del vento quindi cercare dalla furia che complemento è io non ve lo dico e vi lascio alla prossima lezione ciao ciao